Signore consiglieri, eccoci riuniti a consiglio, consigliamoci. Io ho paura dei topi, propongo di ruolare un esercito di gatti. Sempre che questa scala conduca da qualche parte. Costruiamo una barchetta di carte e facciamolo navigare nel rocino. Uno dei primi piatti più storici, più storici, più storici e raffinati che la cucina piemontese. Si dice che questo piatto fosse il preferito di un politico piemontese che ha contribuito all'unità d'Italia.